Musica Buongiorno readers, io sono Jo e bentornati sul mio canale Oggi sono qui per farvi una abbastanza breve, spero, recensione sul libro Illuminae di Amy Kaufman e Jay Kristoff Ecco il tomone di cui vi voglio parlare oggi Ora, siccome vi ho parlato tantissime, tantissime volte di questo libro Ma perdonatemi, probabilmente c'è qualcuno che non segue il mio canale e vede questo libro per la prima volta Quindi io devo un attimo ripetermi Questo è un libro in inglese perché in Italia Illuminae non è ancora uscito ma probabilmente uscirà ad ottobre per la Mondadori Quindi io ho letto il libro in inglese, non è un inglese, è semplicissimo e immediatissimo Quindi lo consiglio solo a chi ha un livello comunque abbastanza alto, medio alto Se non avete questo livello vi consiglio di aspettare la copia in italiano perché questa è una storia che va capita in ogni singola parola che c'è scritta Superato il problema della limbo vi faccio vedere un po' questa edizione bellissima Allora, l'edizione è fatta in questo modo, vi faccio vedere anche l'interno perché è un'edizione che vale assolutamente la pena di essere vista La cosa speciale di questo è lì perché non ha una narrazione ordinaria Ma tutti i fatti sono narrati attraverso dei file, email, instant messaging, dei reportage, dei file della sorveglianza Dei file medici che si scambiano ai nostri protagonisti per l'intera durata del romanzo Ora vi dico qualcosa sulla trama, comunque già la particolarità del libro dovrebbe invitarvi a leggerlo Vi faccio vedere qualche pagina Il libro come potete vedere è veramente molto molto particolare Alcune pagine sono anche scritte in modo veramente assurdo Ci sono anche pagine bianche, giuro Comunque ora vi dico qualcosa sulla trama Il libro si apre in media stress Noi ci troviamo in un futuro molto molto lontano E nello specifico sul pianeta Cherenza IV Questo pianeta subito all'inizio del libro subisce un attacco pseudo-terrorista da una corporazione chiamata Baytech Il quale comincia appunto a bombardare il pianeta sul quale si trovano i nostri due protagonisti Che sono due adolescenti, Kelly Grant ed Ezra Mason Che tra l'altro si sono appena lasciati Il che, piccolo parentesi, secondo me rende molto 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 autentica tutta la loro storia all'interno del libro A tra l'insalvo la popolazione di Cherenza arrivano tre navi spaziali Non so se si può dire navi spaziali perché io non sono proprio un'esperta del gergo Però stazioni spaziali secondo me sono una cosa che stazione in un punto preciso Quindi non si muove, quindi ho pensato di chiamarle navi spaziali Spero che si chiamino navi spaziali Che sono Alexander, Ipatia e Copernicus I superstiti di questo attacco vengono smistati su queste appunto tre navi Navi che partono subito per scappare dalla Lincoln Invece la nave della Baytech che le insegue per eliminarle Per non far, diciamo, fuorescire la notizia che ha attaccato il pianeta di Cherenza Quindi questa è la situazione iniziale Ovviamente Chedi e Ezra vengono smistati su due rame diverse Ezra finisce su Alexander mentre Chedi finisce su Ipatia Questa è la nostra situazione iniziale Però le complicazioni saranno solo per arrivare Perché questo libro ha una complicazione dopo l'altra Una che vi posso subito spoilerare perché c'è scritto anche nella trama del libro È che subito dopo, diciamo, nella prima metà del libro Si scopre che un virus letale, sempre lanciato dalla Baytech durante il suo attacco Si sta sviluppando all'interno della nave Copernicus E che la sua popolazione sta incominciando ad ammalarsi E diciamo che questo virus mi ha ricordato molto The Walking Dead Cioè come diventano le persone dopo che hanno preso questo virus Veramente inquietante perché ci sono delle descrizioni che ti fanno accapponare la pelle Sta diventando una situazione comunque di non sono morti ma non sono vivi E con l'inizio mi vengono messi in quarantena Però vabbè vedrete come si risolve il problema Ora non vi voglio spoilerare nient'altro sulla trama Però è veramente veramente interessante Questo libro ha un colpo di scena circa ogni 50 pagine Ed è un colpo di scena sempre più sconvolgente Che tu non puoi aspettare e dici oh my god Quindi è un libro assolutamente Se siete amanti del genere dovete leggerlo Ma anche se non siete amanti del genere Perché io in primis non lo sono Eppure veramente questo libro mi è piaciuto tantissimo I personaggi sono veramente fantastici Non parlo solamente di Kelly che è una vera badass Perché Kelly è una badass durante tutto il libro E mi è piaciuto perché finalmente è un personaggio femminile Molto forte, indipendente, sveglia Perché se non fosse per lei Non vi posso dire però se non fosse per lei Ezra è un simpaticone, molto dolce È ancora innamorato di Kelly La loro relazione è un po' strana Perché comunque sono su due navicelle diverse Però quanto riguarda i luoghi del romanzo Il libro si svolge per la maggior parte Sulle navi spaziali sulle quali sono i nostri protagonisti Quindi l'Ipatia e l'Alexander E devo dire che gli autori sono Non essendoci una voce narrante Pensavo fosse davvero difficile immedesimarsi All'interno magari dei luoghi appunto di questo libro Perché sono navi spaziali Quindi già non sono cose che proprio Diciamo io mastico ogni giorno E in più non c'è un narratore che me le racconti Però devo dire che questo meccanismo Senza narratore Permette proprio di vivere in prima persona Al lettore tutto quello che sta succedendo Come se fosse nel libro È veramente veramente coinvolgente È una trovata geniale Noi entriamo in contatto con tutto quello qui Entrano in contatto i nostri protagonisti Nello stesso momento in cui ne entrano in contatto loro Quindi secondo io ho trovato veramente un'idea geniale Sapete che poi a me i libri così piacciono Tra l'altro uno dei colpi di scena Vi posso giusto annunciare qualcosa È che da metà del romanzo Avremo una diciamo terzo Possiamo chiamarlo protagonista del nostro racconto Che vi dico già è stato il mio personaggio preferito È un personaggio veramente inusuale Fantastico Non prevedibile soprattutto Quindi è veramente un personaggio ben riuscito Come del resto lo è tutto il libro completamente Non ho una nota negativa da fare per questo libro Spero che l'edizione italiana che esce ottobre Sarà bella e curata come questa qui Perché secondo me fa veramente tanto Ti fa entrare completamente nel clima del libro E appunto di quello che poi è questo libro Leggetelo, leggetelo, leggetelo Perché voglio sapere assolutamente che cosa ne pensate E tra l'altro so che la casa produttrice di Brad Pitt Ha già comprato i diritti per trasformare Illumina in un film Non so quando questo avverrà Perché comunque i meccanismi cinematografici non sono così brevi Quindi per ora abbiamo i diritti Probabilmente uscirà anche il film Comunque veramente non posso fare altro Che consigliarvelo spassionatamente Perché è veramente un bellissimo libro Bellissimo, la mia recensione l'ha un po' di Illumina È finita qui, non volevo dirvi troppo Ma non volevo dirvi troppo poco Voglio assolutamente sapere nei commenti Se avete letto il libro Intendete leggerlo I vostri pareri Perché veramente ho bisogno di parlarne con qualcuno E purtroppo non ci sono così tante persone Che lo hanno letto Qui nella book community italiana Con cui parlare un po' di Illumina Se il video vi è piaciuto Lasciatemi un pollice in su Che come sempre è molto molto apprezzato Se volete iscrivetevi al canale E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao